Il 18 marzo del 1968 veniva promulgata dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat la legge 444 sull'ordinamento della scuola materna statale. Per la verità, per essere precisi, quella legge aveva proprio istituito la scuola materna statale che fino ad allora non esisteva affatto. Certamente prima di quella data c'erano scuole materne, ma erano gestite per lo più da enti religiosi e, in alcuni casi, da comuni. Non mancavano esperienze di scuole gestite da grandi aziende private come Fiat, Olivetti e poche altre. Quella che mancava era però l'idea che i bambini fra i 3 e i 6 anni di età avessero bisogno di una scuola vera, tant'è che allora si parlava ancora di asili infantili. La legge del 68 rappresenta una svolta straordinaria, non solo sotto il profilo pedagogico ed educativo, ma anche da un punto di vista politico. Solo due anni prima il governo di centrosinistra, guidato da Aldo Moro, aveva presentato una legge analoga, che però al momento del voto parlamentare non era stata approvata, a causa del voto contrario di un gruppo di franchi tiratori della stessa democrazia cristiana, tanto da costringere Moro alle dimissioni. Il fatto è che non tutto lo schieramento cattolico aveva digerito l'accordo che Moro aveva raggiunto con i socialisti e con i repubblicani e troppo forte era ancora il timore della DC che la Chiesa perdesse il monopolio della gestione dei servizi educativi per l'infanzia. Aldo Moro però non si perse d'animo e si rimise al lavoro. Finalmente nel 1968, nuovamente alla guida di un governo di centrosinistra, riuscì nello scopo di far approvare la legge. L'anno successivo vennero approvati gli orientamenti che restarono in vigore fino al 1991, quando vennero sostituiti dai nuovi orientamenti, nei quali per la prima volta si usava l'espressione scuola dell'infanzia. A distanza di più di 50 anni questo segmento scolastico non ha però ancora il riconoscimento che meriterebbe e che molti vorrebbero attribuirgli. Per esempio la scuola dell'infanzia non è obbligatoria e per la verità non fa neppure parte della scuola del primo ciclo che comprende soltanto la primaria e la secondaria di primo grado. La stessa legge 107 del 2015 aveva previsto l'organico di potenziamento per tutti gli ordini di scuola ad eccezione della scuola dell'infanzia. A questo bonus si sta rimediando proprio quest'anno. Il decreto sugli organici di prossima emanazione prevede infatti mille posti di potenziamento per l'infanzia. Per contro va però anche sottolineato che di fatto la scuola dell'infanzia è ormai frequentata da più del 90 per cento dei bambini di età fra i 3 e i 6 anni. Gli iscritti sono quasi un milione e mezzo, più di 900 mila nelle scuole statali, 500 mila nelle paritarie. Dei problemi della scuola dell'infanzia continueremo ad occuparci ancora quindi seguiteci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, i vostri documenti su questo argomento. Noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. 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 Grazie.